Ma come si fa una divisione tra polinomi? E perché è un'operazione così importante per capire la scomposizione tra polinomi? Scopriamolo insieme, dai! Ehi là, ciao Big Genius! Qui Matteo, anche noto come Super Matt, il tuo superero scientifico sempre a portata di click, pronto a darti una mano, come al solito, sia in matematica che in fisica. E oggi entriamo nel magico mondo della divisione tra polinomi, sì, ovviamente con i suoi due metodi, la divisione in colonna, il metodo di Ruffini che vedremo nella prossima video-lezione, quindi rimane incollato ovviamente sempre qui su Super Matt, ma in particolar modo vorrei approfondire un po' meglio, un po' di più, il concetto di scomposizione dei polinomi, legato al concetto di divisibilità dei polinomi. E partiamo allora da qui, P di X. Immaginiamo che sia un polinomio, ad esempio, di grado, vogliamo chiamarlo grado N come numeratore, va benissimo. Immaginiamo che questo sia un polinomio di grado D, quindi immaginiamo grado 3, grado 5, si può fare? No. Ovviamente il polinomio P deve essere sempre maggiore o uguale del grado D, quindi del grado del divisore. Questo è molto semplice, altrimenti se no il quoziente verrebbe pressoché sempre 0, questo polinomio non ci sta mai qua dentro neanche una volta e questa divisione non avrebbe un po' senso, neanche, ad esempio, con i numeri, questo ovviamente ha un senso. Immagina, ad esempio, di fare 3 diviso 4, divisione intera, quanto fa? 0, esatto. E ovviamente poi il resto viene 3. Ovviamente questa divisione può avere il resto, ma prima di dire questo è interessante sottolineare come il grado del quoziente deve essere assolutamente N-D. Che vuol dire N-D? Beh, vuol dire il grado del polinomio dividendo meno il grado del polinomio divisore. Questo è di ottavo grado, questo è di quinto grado, questo viene di terzo grado. Exactly! Grande campione oggi in forma, eh? Quindi di conseguenza il resto. Il resto dice possiamo prevedere anche di questo il grado sì e no. Perché? Beh, la risposta è relativamente semplice. Questo possiamo dire che il grado deve essere tecnicamente minore di D. Quindi se questo è di primo grado, questo è di grado zero. What? Esatto, un numero, né più né meno. Questo vuol dire che deve essere, ad esempio, un numero se questo è di primo grado. Ma se questo è di terzo, questo può essere di secondo, di primo, di grado zero? Non lo sappiamo, dipende da come si incastrano i pezzetti del puzzle. Tutto chiaro? Beh, ma voglio farti raggiungere anche quest'oggi il tuo momento wow della matematica. Ovvero, tecnicamente tu saprai che noi possiamo fare una prova e quindi riscrivere sostanzialmente Pdx uguale a Qx moltiplicato per dx. Ovviamente tutto questo più il resto dx, qualora il resto ci fosse. Ovviamente se il resto non c'è, il gioco è fatto. Questo polinomio è perfettamente scomponibile in quest'altro polinomio. Questi sono tutti i giochi che poi riprenderemo nelle nostre scomposizioni di polinomi, in particolar modo con Ruffini. Basta, ho già citato troppo e ti rimando allora al video generale tecnicamente della scomposizione dei polinomi con un fantastico schema da scaricare, link in descrizione lì e il gioco è fatto. Mi raccomando, dagli è tutta, non mollare. È tutto collegato, mattoncino dopo mattoncino. Quindi di conseguenza è interessante anche perché se noi dividiamo tutto per ddx, qui ricostruiamo la frazione algebrica fondamentale, questo se ne va, divido anche qui per ddx e sai che gioco abbiamo fatto? Abbiamo scomposto la nostra frazione algebrica impropria. Perché dico impropria? Beh, perché tecnicamente con i numeri è come se noi avessimo fatto 3 fratto 2, 1 col resto di 1. Quindi sostanzialmente, sì, un po' come fanno gli americani, dai l'avrai visto lì in maths, mathematics, quella robetta lì, no? Fondamentalmente che fanno? Ti dicono, ciao, abbiamo la frazione 3 mezzi? No, no, è una frazione impropria. Sai come la puoi scrivere? La puoi scrivere come 1 più 1 mezzo, che sostanzialmente sarebbe 1, il tuo quoziente, più il resto 1 diviso il vecchio denominatore, 2, 1 mezzo. Quindi sostanzialmente hanno diviso la frazione impropria nella parte intera e in una frazione propria. E noi più o meno possiamo fare la stessa identica cosa con le frazioni algebriche. Anche qui ho citato frazioni algebriche, ho trattato tutto quello che più o meno riguarda le cose principali sulle frazioni algebriche qui, boom, in questa fantastica playlist dove trovi condizioni di esistenza, esercizi, operazioni algebriche e tant'altro. Facci un salto e rivedi di qualcosa che potrebbe essere interessante. Basta però. Dicevamo due metodi fondamentali. Avevamo detto metodo in colonna e avevamo detto metodo regola di Ruffini. Ora, la regola di Ruffini per il momento la mettiamo da parte, non ci interessa più di tanto. Faremo subito un esercizio svolto per ciò che riguarda la divisione in colonna. Solo ancora una cosa. La divisione in colonna tra due polinomi si può sempre fare... Sì, vabbè, ovviamente a patto che n è maggiore o uguale di d. Sì, esatto, la divisione in colonna si può sempre fare. È il nostro faro, è il nostro metodo di riferimento. Mentre questa, la regola di Ruffini, no. Un si può fare solo ed esclusivamente se il polinomio divisore è costruito come x-a. Sì, tranquillo, poi vedremo ovviamente nella prossima lezione. Nel frattempo se hai qualche domanda lascia un commentino qua sotto. Ma dagli è tutta con questo esercizio. Hey là, big genius! Non mi mollare proprio adesso. Ecco per te una fantastica divisione tra polinomio e un polinomio di quinto grado diviso un polinomio di secondo grado. Sei pronto a risolverla con me? Come on! Allora, la prima cosa da controllare è se questo polinomio sia ordinato e completato. Hai capito bene? Polinomio dividendo sempre ordinato e completato. Ordinato in maniera decrescente, quindi dal grado più alto al grado più basso. E su questo ci siamo. Completo? Non ci siamo proprio. Esatto. Deve avere quinto grado, quarto grado, terzo grado, secondo grado, primo grado, termine noto, li ho detti tutti. Sì, mi sento molto robottino style. Ma direi che ci siamo. Quindi che vuol dire? Vuol dire che anzitutto abbiamo detto quindi ordinato e completato e completo che dir si voglia. Te lo scrivo qui, non te lo scordare. E quindi lo scriverò. X alla quinta più 0x alla quarta. Ecco qui il trucchetto per completare. Mettiamo quello che non c'è o meglio quello che c'è ma non si vede. Quindi mettiamo gli zeri. Quindi meno 7x alla terza più 0x alla seconda più 0x, pure questo c'è ma non si vede, più 1. Qui mettiamo la sbarra della divisione in colonna come i bambini degli elementari. Yuppi per noi. E il gioco è fatto. Questo tecnicamente basta che sia ordinato. Ma in teoria se lo vuoi anche completare per una tua maggiore sicurezza lo puoi fare. Non è necessario in questo caso farlo. Quindi il divisore deve essere solo ed esclusivamente ordinato. Divisore ordinato. Dopodiché come si fa? Si fa praticamente una divisione. Basta saper fare la divisione tra monomi. Il monomio diviso il monomio. X alla quinta diviso X alla seconda. Hai capito bene? Il primo diviso il primo che fa X alla terza. Poi si fa una sorta di prova o di riprova come facevamo da bambini. La solita storia. Pensa qui la divisione in colonna, una divisione intera bambino. Quindi il 4 ci sta nel 6 una volta con il resto di 2. Come lo ottenevi sul resto di 2? Facendo una sorta di prova. 1 per 4, 4, cambiato di segno, meno 4 e ottenevi 2. Qui facciamo la stessa cosa, moltiplicato per tutti i termini. Occhio però alla penna. I risultati, cambiati di segno e incolonnati giusto lungo il monomio simile. Nella colonna dei monomi simili loro. Quindi X alla terza per X alla seconda, X alla quinta, meno X alla quinta. X alla terza, meno 3, meno 3X alla terza, cambiato di segno, più 3X alla terza. Tiro linea. Ora, il primo se ne va. Se ne va sempre? Sì. Il primo va via sempre, perché si abbassa sempre di grado. Qui rimarrebbe 0X alla quarta, ma lasciare il primo che è 0 non ha senso. Gli altri invece se vengono dopo qualcos'altro che non è 0 li lasciamo. Ma il primo posto 0 non lasciamo mai, perché fare 0 diviso qualcosa non ha molto senso, fa 0. Ora che lo scriviamo a fare 0 qui, che poi lo dovremmo cancellare, boom, tempo perso. E a noi non ci piace perdere tempo. Successivamente, meno 7 più 3, meno 4X alla terza. Ad esempio, questo lo riscriviamo. Riscriviamo pure 0X, ci potrebbe servire dopo. E questo, che non ha niente, è come se avesse qui in colonna 0. Quindi lo tiriamo giù dritto per dritto e il gioco è fatto. Successivamente, sai che facciamo? Ricominciamo. Ma come? Sostanzialmente il grado N, fin tanto che è maggiore o uguale di D, abbiamo detto. Quindi questo è terzo grado, questo è secondo grado. Ricontrolliamo, è come se ricominciassimo da 0. E il gioco può proseguire. Come on! Meno 4 diviso 1, meno 4, meno 4X. Ci siamo? Giusto. Meno per più, meno, cambiato disegno, più. 4X alla terza. Meno per meno, più, cambiato disegno, meno. Mamma mia, sto diventando stupido. Meno 12X. Fantastico. Tiro linea e il gioco è fatto. Lui va via, lo 0 in prima posizione non ci piace. Meno 12X, ci piace. Più 1, ci piace. Che cos'è questo? Il risultato della nostra fantastica divisione in colonna. Perché? Perché il gioco è finito. Quindi, prendiamo colore alla mano. Lui è quello che chiameremo il nostro amico sergente, quoziente. E lui è quello che chiameremo il nostro amico resto, non lo so. Affibbiegli tu un nome come vuoi. Ok? Quindi lui è il resto, da osservare che effettivamente è un grado più basso di questo, almeno un grado più basso di questo. Il quoziente, come voleva si dimestrare, grado 5, meno grado 2, fa grado 3, i conti tornano. E se proprio non ti fidi di me, o non ti va di fidarti del tutto di me, ma insomma fai bene, capiamoci. Riprendi, moltiplica questo per questo, poi gli sommi insieme il fantastico resto e fai la prova. Esattamente la prova che ci siamo detti prima. Né più e né meno. Ovviamente i conti dovrebbero tornare. Questa è la divisione in colonna. Ovviamente se c'è qualche domanda lascia un commento qua sotto, oppure scrivimi sui miei canali social di qua e di là. Ma ti faccio vedere un altro piccolo trucchetto perché non ti abbandono mai, sai? Qualcuno ha detto trucchetto? E allora che trucchetto sia? Beh in realtà non è proprio un trucchetto, è che questa situazione è davvero scomoda. Divisione, terzo grado, diviso, primo grado, ok fashion. Volendo si potrebbe fare anche con la regola di Ruffini, yes, potresti provare. Ma la vedremo nella prossima video lezione, non mancare mi raccomando. Ma l'idea è questa. Sostanzialmente queste frazioni nei calcoli, come abbiamo visto prima, della divisione in colonna, sono davvero piuttosto scomode, ok? Quindi che cosa potremmo fare? Potremmo fare un fantastico minimo, comune, multiplo. Usare di fondo la proprietà invariantiva. Ma sì dai, è quella che fin dei conti è studiato anche da bambino. L'idea qual è? L'idea è che 3 diviso 2 tecnicamente fa 1 col resto di 1? Benissimo, 6 diviso 4 quanto fa? Fa 1 col resto di 2. Ah, ci picchia, il quoziente viene e il resto non viene. Mi sa che qui c'è qualche barbatrucco. Ok, qual è il barbatrucco? Molto semplice, proviamo a trovarlo insieme. 9 diviso 6. Beh, oddio, in teoria che cosa ho fatto? Stavolta ho moltiplicato per 3, quante volte ci sta 1 col resto di 3? Oh, ma vuoi vedere che qui c'è davvero il barbatrucco? Beh, se questo tecnicamente è 2, questo è 3, questi erano moltiplicati per 2, questo era moltiplicato per 3, praticamente il resto. Qui è moltiplicato per 2 e qui sarà automaticamente moltiplicato per 3. Questo che vuol dire che il quoziente viene preservato, ma il resto non viene preservato. Quello che ti sto cercando di dire, non so se ci siamo davvero capiti, ma spero di sì, è fondamentalmente che tu potresti moltiplicare questo per 6. Moltiplicare questo per 6, che poi ci siamo capiti, no? Sarebbe il minimo comune multiplo che citavo in precedenza. Ritornare a dei numeri interi, ovviamente il quoziente sarebbe salvo, ma il resto no. Se qui sto moltiplicando per 6, mi aspetto che tecnicamente il resto, che ti uscirà fuori da questa bellissima divisione, tu me lo vada a moltiplicare per un sesto, ovvero per il reciproco di quello. Quindi hai moltiplicato prima per 6? Benissimo, dividi ora per 6 e il gioco torna. Il quoziente ci sono problemi? No, il quoziente torna sempre, comunque lo stesso. Ricorda, se a volte hai dei problemi con le lettere e vuoi approfondire, beh, cerca di ritornare a quello che già sai fare bene, i numeri. I numeri li conosci, li conosci bene e quelli ti danno sempre una mano. Bene, a questo punto tecnicamente la divisione è come diventerebbe? Se trovassi il colore giusto te lo direi, effettivamente questa diventerebbe 6 diviso 3, 2, 2 per 2, 4, 4x alla terza, meno 7x, 6 diviso 2, 3 più 15. Quindi vedi che qui siamo tornati a tutti i numeri interi e anche qui torneremo perfettamente a numeri interi. Quindi questa cosa che cosa vuol dire? Questa cosa vuol dire essenzialmente una cosa molto semplice, che adesso la divisione forse è un po' più semplice. La puoi, secondo me, provare a fare da solo, ma mi raccomando ricordati, alla fine della giostra il resto lo devi moltiplicare per un sesto. No moltiplicazione per un sesto, no parti, ok? Quindi di conseguenza iscriviti al canale, fai suonare la campanellina e viaggia veloce verso il ripasso della scomposizione dei polinomi perché aggiungeremo zio Ruffini. Qui trovi tutte le altre lezioni sulle frazioni algebriche giuste giuste per te. Io ti saluto, in bocca al lupo, non mollare mai. Ciao campione! Grazie! Grazie! Grazie!